bentornati al villaggio di giuele euro camping calvisio allora vi diamo il benvenuto con i nostri servizi quelli storici e con tante novità iniziamo dagli storici appena arrivati troverete i nostri receptionist ad accogliervi a darvi tutte le informazioni necessarie per un soggiorno meraviglioso in nostra compagnia e insieme vi daranno anche la chiave e il metodo di pagamento che è come al solito il nostro braccialetto un altro dei nostri servizi ormai storici è diventato storico anche lui è il nostro giuseppe che vi porterà con la nostra navetta fino a 31 posti giù a finale potrete andare al mare oppure in centro città dalla mattina alla sera uno dei nostri punti fermi certi è il nostro minimarket la bottega quest'anno lo abbiamo rivisitato con una serie di innovazioni che dovrete scoprire ovviamente venendo qui per ripostare anche i prodotti che vengono direttamente dalla nostra azienda agricola quindi a chilometro zero e poi il nostro vino il nostro olio e le nostre marmellate di perna buco una delle grandi e nuove novità di quest'anno è proprio il campo estivo insieme a Gioelles Friends infatti dal 20 di giugno fino al 23 di luglio ci sarà l'opportunità di stare qui con noi con i campi estivi a tema equitazione ma non solo faremo escursioni andremo al mare andremo in piscina faremo attività di intrattenimento sì perché infatti ci sarà la possibilità anche di permettare qui insieme a noi e come sempre vi aspettiamo durante tutta la giornata in compagnia dei Gioelles Friends partendo la mattina con il risveglio muscolare passando per il gioco aperitivo il dragallo club e perché no un po di fitness dopodiché alla sera tutti in pista a scatenarci con il i nostri spettacoli e la baby dance e come al solito c'è la nostra le nostre piscine che vi aspettano una semi olimpionica e una per i più piccoli se non volete però stare in piscina vi porto nella nostra spiaggia i bagni Liliana e Varigotti ed eccoci qui siamo arrivati come per magia ai bagni Liliana Gioelle Beach Restaurant la grande novità a partire dall'anno scorso ci troviamo in via Aurelia e siamo a Varigotti ed eccoci qui benvenuti ai nostri bagni primo servizio che incontrerete è il sorriso della nostra Francesca lei vi darà il numero del vostro ombrellone e voi potrete tranquillamente stare a godervi questa bellissima spiaggia vi do qualche informazione 130 ombrelloni e 100 cabine qui a vostra disposizione e per gli ospiti del nostro villaggio la possibilità di pagare sempre con il braccialetto che vi viene dato alla reception e adesso vi porto alla scoperta del mondo dei più piccoli il nostro Dragallo Club con tantissime novità e soprattutto uno stile tutto nuovo venite con me il Dragallo Club è aperto a tutti i bimbi che vanno dai 4 anni in su però non vi preoccupate perché per i più piccoli abbiamo pensato a un divertimento super colorato beh ovviamente per i più grandi il nostro campo da calcio è sempre aperto a orario però eh vediamo se riesco a fare gol giochi, amicizia, fantasia, magia, tutto questo Dragallo Club vi aspettiamo ma lo sapevate qual è il posto più caldo al mondo? io lo so si trova in Iran e si arriva fino a 70 gradi come faccio a saperlo? eh eh perché noi quest'anno abbiamo deciso di scoprire tante curiosità nel mondo infatti quest'anno il nostro tema l'evento generale del nostro villaggio sarà il Giro del Mondo quest'anno infatti noi faremo un giro intorno al mondo ogni settimana avremo un tema differente che toccherà un paese differente il 4 luglio la festa dell'indipendenza il 14 la presa della Bastiglia e poi tante 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 altre festività che festeggeremo proprio qui ogni settimana insieme a voi e al nostro Luna Park del Giro del Mondo a Ferragosto faremo un Giro del Mondo velocissimo in 7 giorni infatti toccheremo tutte le feste più importanti andremo dalla festa dei colori Loli Park indiano fino al Capodanno cinese per passare del Carnevale brasiliano vi aspettiamo eh sarà una festa continua e dopo una giornata di mare o in piscina vuoi non rilassarti con un happy hour? a partire dalle 17.30 fino alle 19.30 a bordo piscina tutto è magia il nostro ristorante ovviamente è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con delle proposte gustosissime anche qui tantissime novità e alla sera la nostra gustosissima pizza cotta con il forno a legna ovviamente per tutti i nostri ospiti della struttura e da quest'anno abbiamo deciso di aprire una nuova proposta per tutti ossia la sezione eventi potete decidere di festeggiare con noi il matrimonio un anniversario una cresima, un battesimo oppure semplicemente venire qui insieme a noi a festeggiare Halloween o volete fare un weekend tematico? beh noi ci siamo e dovete semplicemente scrivere alla nostra email eventi-giuele.it e noi vi faremo avere tutte le informazioni siete pronti? il villaggio di Giuele non è soltanto estate ma è anche Natale infatti il villaggio di Natale ritorna con tante tante novità e tanta innovazione, tante sorprese perché finalmente siamo tornati nella magia del Natale Ricegir spreading Natale il protagonismo quando di si dei monta �